Ciao a tutti, sono Alberto Carlo Nocera, titolare di Officina Digitale ACN, un'agenzia di online marketing. Di che cosa parleremo? Parleremo dell'importanza dell'immagine, oggi, personale e del proprio brand. Perché oggi è così importante? Oggi è importante perché non abbiamo più una realtà, abbiamo una realtà quasi duplicata, perché abbiamo da una parte la realtà, dall'altra quella digitale. Quindi il mondo reale è quello digitale. Sono due mondi che vanno parallelamente, nella stessa direzione, a mille all'ora, e sui quali noi dobbiamo essere presenti. Mi capita di incontrare solitamente due tipologie di imprenditori. Da una parte abbiamo quelli, diciamo, tradizionali, che lavorano tanto, che non hanno spazio, non hanno tempo, da dedicare all'online, giustamente, in alcuni casi. Dall'altra, invece, abbiamo gli imprenditori della nuova generazione, che invece comunicano tanto online, si dedicano tanto all'online, dimenticandosi, o comunque non dedicando più tempo al mondo reale. Quindi al come rapportarsi al mondo reale, alle relazioni interpersonali, tutto quello che c'è intorno. Sono entrambi due atteggiamenti sbagliati. Bisogna dare il giusto peso a entrambi i mondi. Oggi, però, è giusto dire che il mondo virtuale è più forte di quello reale, quasi lo sovrasta, perché mentre nel mondo reale un nostro commento, una conferenza, anche un commento con un amico al bar, è limitato a livello spazio-temporale, perché viene fatto in un determinato momento, in un determinato luogo, e perché dipende dalla memoria delle persone che ci ascoltano. Nel mondo online, invece, questo non avviene. Questi spazi temporali vengono rotti, una nostra reaction, un commento, una foto postata, una condivisione. In quel caso, quella mossa potrebbe raggiungere tutto il mondo in un nanosecondo, e soprattutto non ha una data di scadenza. Per questo, oggi, il mondo online viene definito più importante rispetto a quello offline. Comunicare la propria immagine. In questo caso, bisogna intanto mai dimenticarsi che i due mondi viaggiano a livello sinergico, perché, se faccio un esempio dall'offline all'online, una recensione negativa, dopo aver avuto un batti-back con qualcuno. Al contrario, magari, invece, comunicare una propria immagine diversa rispetto a quella reale. Quindi, comunque, bisogna lavorarci in maniera sinergica. Quando si parla di immagine, si parla di personal brand. Come possiamo definirlo? Rubando una frase, possiamo dire che il personal brand è quello che gli altri dicono di noi una volta che lasciamo la stanza. In quel caso, però, ci dobbiamo rendere conto che quello che dicono gli altri noi dobbiamo essere noi a veicolarlo. Non può essere lasciato tutto al caso. In questo momento, chi mi ha ascoltato fino adesso, penso, si sia fatto un'idea di me e pensa che mi piace la musica, ma non lo pensa per come ho parlato. Lo pensa perché in questo video, alla mia destra c'è una chitarra, alla mia sinistra ci sono dei cd e sopra c'è un tizio che canta. Quindi, sono delle piccole tecniche in un'immagine del profilo, in un'immagine di copertina, che vanno a veicolare quello che noi vogliamo trasmettere, quello che noi vogliamo che gli altri dicano di noi. Allo stesso modo, ci dobbiamo rendere conto che quella stanza non è più una stanza, non è più un paese, non è più una città, non è più una regione, ma è tutto il mondo, col mondo online. Cosa dire di più? Sono argomenti astratti, sono argomenti che possiamo approfondire, se volete, in un video un po' più lungo. Sono dei momenti in cui molti hanno in questo momento tempo libero da dedicare. Dedicate tempo libero alla vostra formazione, formazione però della vostra professione. Meno tuttologi e più professionisti. Diventate i numeri uno del vostro settore, ma se non riuscite a comunicarlo, è come se non avesse fatto niente. Un forte in bocca al lupo e un forte abbraccio. Ciao a tutti!